Ciao a tutti, questo è Assetto Corsa Comperizione e siamo tornati a Misano con sempre lo stesso gruppo, ovvero quello dei Drunken Reapers, quindi abbiamo i classici personaggi del canale come i Zero Simulazioni ed è tornato anche un altro ospite che ha fatto capolino in un'altra gara sempre a Misano, ovvero Carlo X, oppure come l'ho soprannominato io, Tappo X perché come si può vedere da questo episodio che vi invito a riguardare, se non l'avete visto, ha praticamente fatto le barricate e non si è fatto passare causandomi leggermente più stress del dovuto questa volta però non voglio ricadere nello stesso trappolone, quindi mi sono qualificato più avanti, diciamo, insomma, 25esimo ma comunque due posizioni più in avanti del tappo stesso, mentre invece i ragazzi di Zero Simulazioni partivano molto più dietro non solo perché si erano qualificati dietro, ma perché hanno pure fatto un casino con la procedura di partenza si sono ritrovati a partire dai box guarda qua come scaldiamo le gomme come i Pro ma guarda che inserimento che ha sta macchina posso scaldare le gomme sì, è proprio brava nel scaldare le gomme è stata per quello grande no, perché? perché mi ha lanciato? che è successo? perché mi ha lanciato i pit? la formula è la stessa dell'episodio di Zambort della settimana scorsa ovvero due gare da a mezz'ora ciascuna e come potete vedere, così come anche l'episodio precedente siamo sempre in 40 in un altro circuito che è tutt'altro che largo e per la prima volta nella storia di video di setto corso competizioni riesco anche in questo gioco a sfoggiare la livrea tonnata partiamo quindi per questa gara che ricorderà molto spesso una battita di Monopoli infatti il primo imprevisto è Pugliaroni che tentando l'attacco all'interno alla curva del Rio come vi verrebbe da dire a questo punto dico lo stretto provoca l'ennesimo ingorgo con persone che disperatamente cercano di trovare la sopravvivenza addirittura Delia si ritrova alla testa del tracciato in un altro codice postale mentre invece io mi ritrovo abbastanza sano ma nella posizione disdicevoli devo fermi difendere da Fasiello sulla sinistra se vedete il radar sta all'interno della quercia dove sferra l'attacco io gli concedo umanamente la posizione onde evitare ulteriori ingorghi e casini anche perché poi è il primo giro ed è una gara comunque di mezz'ora quindi ci sarà tempo per recuperare anche perché poi avevo già recuperato 3-4 posizioni dalla partenza una gliela potevo concedere la tenevo di spiccio come si diceva a Napoli fatto sta che alla fine del giro stesso Barbera fa un rientro barbino in pista io lo evito all'ultimo e cerco comunque di approfittarne per sorpassarlo lui però rimane bello barbino all'interno e anzi Delia si ripropone nuovamente nelle terga del sottoscritto e appunto cerca l'attacco in curva 1 anche in questo caso sono stato forse un po' troppo cauto ho concesso leggermente troppo spazio e il Delia mi è sgusciato che poi mi si è accorto a fine gara che di Delia ce n'erano 3 c'erano 2 fratelli e anche il padre infatti ogni tanto mi domandavo ma se sei imbannato sto Delia? invece no erano 3 tornando a noi stiamo adesso cercando di uscire in maniera quanto meno pezzente possibile dal vicolo stretto però purtroppo becco i salsicciotti rallento è lì rapace Guigiani sta subito per buttarsi all'interno cercando il sorpasso io qui non ho veramente nulla da fare però almeno ne approfitto di Meletti che invece si è andato a biodegradare all'uscita della curva stessa non perdo posizioni bene così dai per poter cercare la vendetta sul Guigiani devo aspettare un paio di giri perché si è formato una specie di trenino con Barbera che sta continuando a fare delle letture un po' fallaci Guigiani stesso e se vedete lo specchietto retrovisore c'è anche un Ceia molto agguerrito quando io riesco a tenermi comunque l'esterno dell'ultima curva e sono in posizione favorevole per la curva successiva vado all'interno e mi sbertuccio Guigiani a mia volta e anche Ceia cerca poi di prendersi una fetta della torta approfittando della gentilezza del Guigiani al concedere l'interno agli avversari mentre io invece vado molto tranquillo per Vicolo Stretto Ceia invece attacca Guigiani all'interno e cercherò anche questa volta di non uscire in maniera troppo pezzente non uscivo mai tanto bene da questa curva da Vicolo Stretto però tant'è questa volta sembra andare meglio ma è solamente un'impressione perché Ceia esce molto più sparato però adesso io furbo mi metto all'interno e comunque rintuzzo l'attacco del buon Ceia che però ci riprova nuovamente alla curva del tramonto io faccio lo stesso giochetto sto all'interno lui cercherà invece di accelerare molto meglio in uscita ma copra anche l'incrocio quindi Ceia si attacca al tram da buon gioco del monopoli questo è il momento di pescare la carta degli imprevisti il primo imprevisto è l'incidente a catena innescato questa volta da D'Andrea che prova l'interno al rizzo c'è il contatto lui si gira e la sua carcassa viene raccolta da Falcone che si gira a sua volta facendo da posto di blocca a Yelpo che ha praticamente la peggio con una vettura completamente tumefatta ai lati della pista ma questo fa quasi da diversivo a Ceia che di soppiatto mi ciula la posizione e io sono regato nuovamente in ventesima della stessa cosa cerca di approfittarne anche Guigiani ma soprattutto anche Baroni con un'altra Stormarty che viene praticamente dal nulla cercando anche lui di fare parte del marasma ma adesso è il momento di pescare una nuova carta degli imprevisti e un avversario che si connette con un Nokia 3310 infatti Barbera si ritrova con una connessione da 56k a fare dei movimenti leggermente naturali provocando la distruzione di un altro avversario oltre che a se stesso però comunque riesco ad approfittarne e a guadagnare la diciottesima posizione posizione che però al giro numero 8 all'uscita di Vicolo Stretto viene nuovamente attentata dal buon Guigiani che con un tipo d'attacco già visto alla quercia si prende di prepotenza all'interno e io non posso farci più niente però attenzione c'è anche l'Alexus sulla destra di Meletti che proverà ad approfittare di questo attacco di Guigiani per potersi fare beffe del sottoscritto io cerco di difendermi all'interno ma questa volta sono leggermente meno bravo ad uscire alla curva mentre invece Meletti esce proprio sparato anzi sparatissimo per l'entrata del curvone qua è quasi impossibile farla indurre quindi o alzi il piede e lasci passare l'altro oppure è molto probabile che fa una fine miserabile quindi io ho scelto la prima opzione e quindi saluto Meletti è stato un piacere ci vediamo alla prossima mi ero dimenticato di dire poi che qui a Misano è molto semplice prendere penalità per taglio curva e quindi passare a box con un drive-thru e infatti proprio in grande stile monopoli c'è D'Andrea che va in prigione e io sorpasso approfittando appunto del fatto che lui doveva passare per forza di cose a box per la penalità passiamo quindi al giro numero 10 verso la fine del giro numero 10 e ci ritroviamo nuovamente Ceglia che ritorna dagli amici dopo essere passato a fare un picnic ai lati della pista e ci ritroviamo quindi in 5-6 vetture nello spazio di 2-3 secondi con Meletti e Falcone a far parte del gruppo e anche dietro a Baroni che nuovamente cerca di mettere il suo musetto in luoghi oscuri se così possiamo dire il fatto sta che stiamo quasi entrando in 4 contemporaneamente all'entrata di Vicolo Stretto cosa non proprio idilliaca con Guigiani che va leggermente largo io mi ritrovo quindi in un sandwich formato da Baroni che fortunatamente alza il piede c'è un piccolo contatto a Guigiani io vado fuori pista Guigiani che poi rallenta tantissimo e viene obliterato da Bugliaroni che si trova anche lui in bracche di tela ma torniamo avanti con Fasielo che pesca la carta imprevisto che è eloquente e quindi deve giustamente attenersi ai regolamenti e si gira alle curve del Vicolo Stretto permettendomi di effettuare un altro sorpasso praticamente indisturbato dovrei essere adesso in 14esima posizione ma passiamo al giro numero 13 dove mi ritrova addirittura due altre persone Becci e Rizzo che vengono punite dal gioco per aver tagliato troppe curve e quindi mi ritrovo dodicesimo dopo altri giri siamo quasi verso la fine di gara 1 mi ritrovo Falcone davanti che ho recuperato dopo una rimonta feroce e mi ritrovo in tutto e per tutto affiancato ai curvoni qua adesso dovrà essere per forza di cose lui quello che dovrà alzare il piede cosa che succede grazie Falcone ti faccio il gesto del saluto militare però mi becco la posizione e finisco la gara in undicesima posizione posizione che poi diventerà decima perché anche Mapelli viene punito dal gioco però non avendo più giri a disposizione per poter scontare la penalità verrà retrocesso di qualche posizione potrà però prendersi la rivincita in gara 2 dove parto leggermente più avanti per via di una regola che se ti ritiri da gara 1 in gara 2 parti dietro non so come effettivamente funziona la cosa ma mi sono ritrovato ventunesimo al posto di venticinquesimo vabbè si ritorna quindi alla prima casella con una quarantina di vetture a fare da traffico in quello che poi sarà l'ingresso di Vicolo Stretto io ancora non capisco perché vengono scelte le località con i circuiti più stretti della galassia per aver fatto sto campionato di 40 vetture comunque questa volta credo che sia andata leggermente meglio rispetto alla partenza della gara precedente dove c'era stato quell'ingorgo vabbè penso ve lo ricordate era 7 minuti fa che cacchio comunque a parte un coccolone con Falcone che quasi mi ha tagliato la strada sono riuscito a sopravvivere anche questa volta adesso siamo alla quercia e Falcone non credo che sia uscito molto bene anzi io cerco di approfittare lui già si fa all'interno già sapendo che probabilmente lo avrei potuto attaccare io non ero molto fidocioso dell'attacco all'esterno ma Falcone è molto conservativo in ingresso curva e riesco a sorpassarlo senza nessun problema ma andiamo alla fine del giro dove c'è Dagata o Tagata per gli amici che salta su un salsicciotto e carabola su un mapelli e uno della stirpe di Delia quindi obliterà 3-4 avversari in una botta sola e io appunto ne approfitto per sorpassarli mentre invece al giro successivo c'è un'altra carambola tra Guigiani e Fasillo che si ritrova ancora una volta girato nel senso opposto di marcia che però carambola a sua volta su Dos Santos che mi stava proprio davanti e io gli do un colpo di grazia e insomma così guadagno altre posizioni mentre esco nuovamente in maniera assolutamente imbecille da vicolo stretto ma andiamo avanti perché i regali non finiscono qui infatti nuovamente ci sono bandiere gialle perché bisogna raccontare la triste favola di Zannettino che tra l'altro poi è il mio compagno di squadra solito per le gare di durata che viene girato alla quercia e si ritrova una volta rientrato in pista in un'altra macedonia di vetture tutte Ferrari poi per l'altro però purtroppo nella foca della remuntata si ritrova a infilare il suo musetto dove non dovrebbe e ceia viene raccolto suo malgrado nella bagarre e il risultato è che entrambi vanno fuori pista e io invece fischettando li riesco a sorpassare in tutto questo casino sono quasi arrivato ai piedi della top 10 dove però ci entro in tutto e per tutto successivamente quando c'è un altro contatto tra uno della stirpe di Delia Meletti e Rizzo che invece è l'unico che sopravvive alla cagnara quindi niente mi ritrovo nuovamente a prendere i cocci per strada io sto là faccio il mio non chiedo niente a nessuno intanto passo Meletti che però due giri più tardi vuole riprendersi il mal tolto esce molto meglio da vicolo stretto e io nemmeno provo a difendermi perché già so che perderei molto più tempo e mi farei riavvicinare anche dagli altri avversari che stanno ancora più indietro invece voglio almeno arenarmi in decima posizione o comunque all'interno della top 10 diciamo così continua invece la serie di sfortunati eventi con il secondo in classifica non mi ricordo nemmeno chi stava secondo che comunque ha un contatto con Alessandro K che era primo e quindi viene obliterato e si ritirerà dalla corsa e poi Yelpo che prima si scorna con Dileo facendolo pirouettare in arabesque e successivamente gli viene un coccolone alla connessione e questo lo costringe all'abbattimento della sua Ferrari sulle barriere e al ritiro dalla corsa facendo quindi i calcoli con tutte queste defezioni mi ritrovo settimo e l'ultimo ostacolo tra me e la settima posizione è Mapelli che intanto mi aveva recuperato quei 4-5 secondi di distacco adesso sta proprio dietro a me calzari quando siamo arrivati all'ultimo giro tenta inizialmente l'attacco all'esterno per poi incrociare io invece mi aggrappo come un koala al cordo all'interno c'è un piccolo contatto ma riesco comunque a salvare la pellaccia e arriviamo adesso invece alle ultime curve dove si fa sempre più pericoloso io cerco quindi di coprire nuovamente l'interno ma mi rendo vulnerabile in uscita purtroppo e Mapelli prova a entrare nell'orifizio mi faccio un po' all'interno per dargli meno spazio possibile ma finisco ulteriormente fuori pista e non mi rimane altro quindi che premere l'acceleratore e sperare per il meglio arriviamo quindi sul rettilineo del traguardo e fortunatamente questa volta mi è andata di quindi sono rimasto settimo proprio per un petosecondo e ovviamente quindi qui vado a festeggiare con le donuts e con queste donuts vi saluto e ci sentiamo alla prossima grazie a tutti